Con molto imbarazzo per la distanza, santità, e tuttavia, nonostante l'imbarazzo, auguri i devoti, intrecciati con un grazie, perché da me, uomo di legge, che deve per dovere istituzionale cercare di garantire sicurezza ai cittadini, il ringraziamento per chi come lei chiede nel tempo stesso giustizia e quindi aiuta tutti a capire che non può esserci sicurezza vera, autentica, duratura, se sull'altare della sicurezza si sacrificano i diritti delle persone, perché lei ci insegna la centralità della persona, il rispetto dei diritti di ciascuno e di tutti. Ecco, è fondamentale anche per chi è operatore di giustizia nei termini, a volte ristretti, dell'osservanza di una norma, di una legge scritta. Grazie, santità, auguri.